Dunque, è vero che mangiare mele è noioso? Come dice Valdo Cazzaro Non mi sembra, no? Raduno melariano Spaghetti melariani al sugo Di mela, ovviamente Quindi non è vero che le mele sono noiose L'arancia è noiosa Oh no, Dario, che dici? Confermo, Dario approvede Io approvede Questa la carichiamo subito Siamo già a 24 visualizzazioni con il pH Vediamo un po' A con l'arancia non si possono fare gli spaghetti Esatto Cincine, vai, pure Dario Cincine con il piatto Donne, anche con le mele potete stare in cucina a divertirvi Che sballo Che sballo Che sballo Io penso 100% melana che va a nessuno Il melarismo Il melarismo Oh, io senti, dopo un mese di mele a morsi e basta Questo mi sembra proprio, eh? Mamma mia E non sei morto? O non sei in diarrea come dice Fabrotti? Fabrotti sarà in diarrea lui adesso Perché ce l'ho dura come in Sergio Ah, ah, ah Ah, ah, ah Però guarda che i medagliani non bisogna essere bravi Allegri, pacifici Sì, ma non è che dobbiamo dare Dobbiamo dare il culo a Ah, ah, ah Ai finti crudisti Ah, no, no No, là diventa un euro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah